A tre mesi dal tragico evento del terremoto restano accesi e più luminosi di prima i riflettori del mondo intero sull'Aquila. Stavolta l'attenzione non è il sisma ma l'evento del G8, occasione per i grandi del mondo di vedere con i propri occhi cosa ha combinato la terra che trema a quella che era la meravigliosa città dell'Aquila. La rilevanza del 35esimo vertice dei paesi più industrializzati che si aprirà mercoledì all'ora di pranzo all'Aquila e che Silvio Berlusconi ospiterà per la terza volta in Italia dopo Napoli e Genova da premier, l'unico al mondo a detenere questo primato, è testimoniata dai numeri da record. Alla tre giorni nel capoluogo abruzzese ci saranno i leader di 29 paesi, da Barack Obama a Gheddafi e i rappresentanti di 11 organizzazioni internazionali. In totale 40 delegazioni con un migliaio di persone al seguito, soltanto tra quelli alloggiate nella zona di Coppito, teatro del Summit. A loro si uniranno 4.000 tra giornalisti, fotografi e cameraman. I paesi coinvolti sono quelli del G8, Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Russia e Stati Uniti, a cui giovedì mattina si uniranno quelli del gruppo dei 5, Brasile, Ciria, India, Messico e Sudafrica. Più l'Egitto, ospite speciale della Presidenza. In seguito si terrà una riunione a 17, allergata a Australia, Corea del Sud e Indonesia, il cosiddetto Mayor Economist Forum. Ci sarà anche una sessione sul clima, allargata alla Danimarca, quale paese che ospiterà la conferenza di dicembre a Copenaghen, e all'Olanda, alla Spagna e alla Turchia. La Svezia partecipa a tutti i lavori in qualità di Presidente di turno dell'UE, affiancata dal Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso. Tutti i leader e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali si ritroveranno giovedì sera alla cena offerta dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ci saranno anche i leader dei paesi africani. L'Africa, infatti, sarà protagonista delle ultime due sessioni di lavoro di venerdì mattina. Le organizzazioni internazionali presenti saranno la Commissione UA e UE, l'ONU e le sue tre agenzie alimentari, i FADFAO e PAM, l'OMC, la Banca Mondiale, l'Ocse e l'Agenzia Internazionale per l'Energia. Sono state adottate tutte le misure atte ad assicurare ogni tipo di sicurezza, dichiara il Prefetto dell'Aquila, Franco Gabrielli, anche e soprattutto per il Palazzo del Consiglio regionale, l'unico ufficio pubblico in funzione nella zona rossa del Centro Storico, e Palazzo Silone, unico in funzione con circa 7.600 dipendenti della Giunta regionale nella parte periferica della città. Sono da considerare obiettivi sensibili durante i giorni del G8. Il Direttore del Servizio Rischio Sismico della Prevenzione Civile, Mauro Dolci, assicura che sono state fatte delle verifiche accurate fin dal 6 aprile e tutte quanti hanno confermato che le strutture della Scuola della Guardia di Finanza sono in grado di resistere senza crollare a tutti i terremoti che nel corso della storia si sono verificati all'Aquila. Garantire la certezza che durante il vertice non si verificheranno eventi sismici è impossibile, ma la struttura che ospiterà il vertice può sopportare terremoti di intensità superiore a quella del 6 aprile. La magnitudo fu 5,8, alla quale ha resistito senza subire danni strutturali. E comunque tutti i controlli sono stati fatti accuratamente e più volte, controlli che hanno riguardato ovviamente non solo la caserma dove dormiranno gli otto grandi, perché le priorità sono e restano i terremotati.